Ciao a tutti, sono Claudio Forlì, lavoro in Ipsa da quasi 12 anni producendo film orali nello stabilimento di Cassina dei Pecchi. La mia giornata lavorativa si svolge laddove nasce il prodotto, quindi con le varie attività di pesatura, formazione e preparazione masse per film orali. La produzione è innovazione, soprattutto in Ipsa, la quale da sempre punta a creare soluzioni all'avanguardia. Ipsa è attenta alle esigenze delle persone. Ipsa è efficienza. Com'è che l'ho partito un po' buono?